Ci sono persone ed aziende che legano a filo doppio la loro professione, la loro esistenza con un qualcosa che va al di là del comprensibile per molti. Si parla di solidarietà, si parla di mobilità, si parla di PMG, lo facciamo con Valentina Ferri, che rappresenta in questa chiusura di questo breve periodo di Agitamos con la sua presenza, il fatto che questa è un'azienda che c'è e si sente, si vede. Sì, noi di PMG abbiamo fatto della nostra mission un vero e proprio valore. Noi occupandoci di mobilità per le persone disabili non cerchiamo solo di accompagnarli in un percorso semplicemente stradale, ma anche in un percorso di vita. Garantire la mobilità per noi significa garantire a queste persone tutta una serie di diritti di cui ancora adesso non possono godere a pieno. Una sorta di trade union tra quello che è il business, fine a se stesso, con quella parola molto più grande che si definisce ed è abusata tra le volte, inclusione, aggregazione, abbattimento delle barriere. Con voi lo abbiamo vissuto veramente, realmente sul campo, per esempio, la vostra presenza in una manifestazione internazionale di arceria vi ha portato agli onori delle cronache anche internazionali. Quel made in Italy che dall'idea porta davvero a grandi cose. Valentina? Sì, la nostra è un'azienda tutta italiana e siamo partiti da una dimensione medio-piccola e siamo molto orgogliosi della crescita che abbiamo effettuato in tutti questi anni. Siamo molto presenti sul territorio ma anche nei piccoli territori. Abbiamo una presenza capillare proprio perché crediamo che l'Unione fa la forza e si comincia dai piccoli per arrivare ai grandi. Magari un giorno arriveremo anche all'estero, ce l'auguriamo. Valentina, essere praticamente partner, principe del Comitato Italiano Paralimpico è già una buona base in partenza. Assolutamente sì, ne siamo molto orgogliosi, grazie a voi. Grazie a voi e buon lavoro. Buon lavoro a voi, grazie. Welcome to the Olympics! Buon lavoro a voi, grazie a tutti!